Dopo un lungo periodo invernale in cui mi sono chiuso in me stesso e non ho più fatto un cazzo perché onestamente l'inverno mi deprime Rieccoci qua quindi buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui appunto sarà un video di unboxing Ho deciso di fare questo video che sarà il primo di una lunga serie contenuti in questa nuova playlist che ho deciso di fare Proprio perché ho detto voglio modificare la mia moto, ho comprato un sacco di cose perché non farci una serie sopra E quindi questo qua l'ho chiamato episodio 0 perché giustamente è un po' un'introduzione diciamo a quello che voglio fare E oggi non verrà montato niente di tutto ciò che vedete, sarà solo un unboxing, non voglio dilungarmi quindi cominciamo Allora tutto quello che vedete qua è stato comprato sostanzialmente su tre siti Il primo è VRS come potete vedere e qua dentro vi dico già che ci sarà uno scarico Il secondo è, mi pare sia questo, ah no è questo, questo qua è marrone E Motea, mentre invece l'altra roba Aliexpress Onestamente ero un po' restio a comprare su Aliexpress poi mi hanno diciamo convinto e vediamo appunto com'è questa roba qua Allora faccio un po' di spazio perché se no non vado in palla Allora primo pacco della giornata questo qua è quello di Motea E questo l'ho già aperto perché ci sono stati dei problemi e dovevo guardare se tutto fosse a posto all'interno Quindi in realtà non lo sto aprendo per la prima volta ma vediamo lo stesso cosa c'è dentro Allora primo Li apro tutti e poi vi faccio vedere Uno, il secondo è questo Eccolo qua E il terzo che è all'interno è questo qua, lo apro davanti a voi Eccolo qua Protezioni per il radiatore Comprate su Motea Però vi devo dire che ho trovato le stesse uguali Un prezzo un po' minore su Aliexpress Però non sapremo mai qual è dei due il migliore O se ce n'è uno peggiore uno migliore perché ormai l'avevo già prese Allora questa qua è quella diciamo la griglia che si mette quella principale diciamo Quindi quella del radiatore più grosso Poi c'è questa che va sul radiatore dell'olio E poi ho visto perché giustamente quando ho aperto questo ho detto Ma che cosa cazzo è sta roba Questo qua in sostanza protegge la testata del motore Come manifatture mi sembrano belle Comunque tutto alluminio Non so se sia verniciato oppure anodizzato Bisognerebbe graffiarlo Però noi non lo facciamo Però bisogna dire che come solidità ecco Sono anche molto Cioè sono spessi nel senso che danno abbastanza Confidenza Dato che i radiatori costano un bel po' Ho detto prendiamo questo così almeno preveniamo Quindi adesso questa roba la rimetto qua dentro Secondo pacco Allora apriamo il primo pacco dei due di VRS Nel secondo c'è la marmitta E lo tengo per ultima Prendiamo il nostro amico taglierino Eccolo qua Allora qua dentro c'è un bellissimo portatarga Allora Uh no non c'è solo il portatarga Allora abbiamo le frecce per il portatarga Non mi ricordo come si chiamano queste Avevano un nome ma non me lo ricordo Vabbè comunque sono della Barracuda Le ho prese così perché erano le più piccole Perché diciamo che la mia idea era prendere un portatarga reclinabile Però se tu hai le frecce troppo grosse Non lo reclini manco per il cazzo Queste erano le più piccole E dai Sembrano Sembrano carine anche Poi abbiamo vari Adesivi che Molto probabilmente non metterò E poi qua c'è il portatarga Quindi togliamo questo Allora questo è il portatarga Della CNC Racing Omologato Cosa molto importante Lo volevo omologato Per non aver problemi diciamo Questo sarà una delle cose più lunghe da montare Perché bisogna anche rifare i cablaggi delle frecce Fatti bene Quindi ci vorrà un po' Qua dentro non so cosa c'è Apriamo Allora in questo primo qua In questo scatolotto Vediamo cosa c'è Ah ok qua ci sono varie viti Ah si c'è anche il faro per illuminare la targa Qua ci sono una serie di viti e bulloni Devo guardarmi le istruzioni perché onestamente non so Ah ok eccole qua le istruzioni Eccole qua Comunque tutte queste cose le vedremo meglio Quando farò il video dedicato a questo portatarga Quindi portatarga e frecce Anzi facciamo così Lo apro tutto fin da subito Allora quindi c'è questo pezzo qua E comunque vari pezzi Che bisognerà montarli in un determinato ordine Vabbè comunque a parte questo Stupro di plastica che ho appena fatto Queste sono le parti e E basta Allora Questo qua Dato che ci sono scritte cinesi sopra Quindi probabilmente arriva da Aliexpress Andiamo ad aprire Comunque fa veramente godere Nel senso Un conto è comprare le cose separatamente Ok Un conto è comprare tutta sta marea di roba E aprirla tutta insieme Da una soddisfazione Molto grande Allora Che figo Allora Qua ci sono i paramotori Diciamo se si possono chiamare così Le protezioni per il motore Che ho deciso di comprare Perché ricomprare un carter Se si riga o se si danneggia Della mia Costa Un rene e mezzo più o meno E quindi ho deciso di comprare questi Che sono Non sono Cioè sono abbastanza economici Sono fatti penso di plastica Sono della GB Racing Non so se Vabbè comunque materiale plastico Ecco Comunque questo qua è quello Per il carter motore Diciamo Poi c'è Questo qua Che figo Che è della Della pompa dell'acqua Anche qua con i suoi viti Le lasciamo lì per un attimo Che è questo Ok E poi c'è questo Che mi pare sia Ah qua c'è pure il disegno Qua c'è il disegno appunto Che dice Le varie parti Questo qua dovrebbe essere quello Della Della parte della frizione No 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 Mi sono sbagliato Questo qua va a destra Pensavo fosse l'altro Infatti qua c'è anche L'oblò Per Per l'olio Questo qua E l'altro La pompa vanno a sinistra Molto belli peraltro Pensavo fossero più schifosi In realtà Sono anche belli Vabbè Comunque questo Mettiamo tutto Lì a caso Allora anche questa roba qua Penso sia Di Aliexpress Sì perché mi manca una cosa Che non ho ancora aperto Quindi Apriamo Allora qua ci sono Uh che bello Che figo Molti colori vivaci Allora queste robe qua Allora Ah ok Questi sono I tappi Per La frizione E per il freno Non si è rovinato Non si è rovinato quindi top Questo qua è quello Del serbatoio del freno Mentre invece Questi due dovrebbero essere Quelli del serbatoio del freno dietro E della frizione Molto carini in realtà La scritta Ducati è un po' Sicuramente è un'incisione al laser Questa Non mi ricordo quanto sono costati In realtà poco Perché se no non li avrei comprati Cioè alla fine comunque sono tappi Quindi non è che vanno a fare una sorta di Di scopo strutturale O roba del genere Quindi Cioè che siano di plastica Che siano così Sono sempre tappi Ecco li ho presi più che altro per l'estetica Qua di funzionale non c'è niente Li mettiamo qua Poi seconda No dov'è Ce n'era un'altra No Poi c'è questa Sempre robe cinesi scritte sopra Io dico cinesi perché Orientali Paura di rompere Cioè Di tagliardinette e rompere qualcosa Allora Sì ma qua sembra un Un panetto di droga Sembra Come cazzo si apre sta roba No Perché fa le cose complicate Uh che figo Allora questo qua è il Un'altra tamarrata Non so come spiegarlo In pratica si mette sul Come base del cavalletto Cioè una base del cavalletto E niente Una tamarrata Non penso ci sia molto da aggiungere Comunque molto bella C'è anche la scritta Ipermotard sopra Mi pareva carino Anche questo è costato poco Quindi anche perché Se no non l'avrei preso Parte 2 Andiamo a prendere le altre cose Quindi queste le mettiamo qua davanti E poi c'è questo Che non è un dildo stra gigante Ma è un Adesso lo vedrete Allora Così Apriamo dall'altra Ok Questi qua sono i tamponi per il telaio Infatti eccolo qua Crash protection Vabbè quella roba lì Andiamo ad aprirli Allora questi Sempre su Aliexpress Ma Sono costati un pochino Nel senso tipo Una cinquantina di euro Allora In genere Sul web si trova Roba da 200 e passa euro Che sono di marca Ok però C'è questa roba qua Deve prendere le botte Allora niente Questo qua è della Home true Anche questo E semplicemente questo qua Si aggancia al telaio Ok quindi C'è una vite che tiene Mi pare Il motore al telaio Si toglie quella vite lì Si mette questo E semplicemente questo Evita di Sdrumare O scartavetrare Scegliete il termine che volete La moto Nel caso in cui Si dovesse cadere Mi sembra molto solido E appunto In giro sul web Ce ne sono Da 200 300 C'è anche la marca di mezzo C'è da dire Quindi Senza fare nomi Alla fine è una cosa che Si deve tenere Ma comunque I materiali sono questi I materiali mi sembrano buoni Così a occhio Poi ho Se cade la moto Penso che Ci siano altri problemi Eccolo qua Sono diversi perché Ah no In realtà sono passanti Penso un po' Pensavo fossero Come vi ho detto prima Che si doveva Togliere Pensavo fossero divisi Invece si agganciano Uno all'altro E top E così Anche più resistente Meccanicamente parlando Cazzo top E niente Quindi questi Penso siano Molto veloci da montare Allora Togliamo sta roba Allora Eeeh E' arrivato il momento Della marmitta Momento clou ragazzi Perché non so Né se Né tra quanti anni Farò di nuovo Una roba del genere Un acquisto del genere Perché sono veramente Tanti soldi Almeno una volta Nella vita Volevo una moto Con uno scarico Della madonna Allora Sono emozionato Che figo Che figo Che figo Che figo Allora Togliamo Questa cosa sotto Allora Lo apriamo da qua Ok Ok D'acqua Ok 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 Ci siamo User manual Che figo Che figo Che figo Che figo è vero Questa roba qua Che mi sono dimenticato Ecco quindi Top Qua abbiamo sempre Di nuovo adesivi VRS Depliant con Varie cose Momento della verità Allora qua ci sono Fascette e varie cose Ok Eccoli Eccoli Allora Prendiamoli tutte e due Perché sono due Sono due Non sono uno Qua non c'è più niente dentro Sì c'è una cosa Ah ok C'è Uh che figo Allora Istruzioni per il montaggio E poi qua sotto C'è il La garanzia Ci dovrebbe anche essere Il certificato Diciamo di omologazione Perché questa marmitta È omologata Momento della verità Parte 2 Apriamo anche questo Allora Eccoci qua Eccolo Me coglioni Allora qua c'è Il numero Di serie C'è anche l'omologazione E26 E queste robe qua Il DB killer Dovrebbe essere Estraibile Dovrebbe Oh cazzo Ma qua è tutto aperto Come fa ad essere omologato Questo Vabbè Apriamo anche l'altro Uguale Sì ma ragazzi Qua è tutto aperto Cazzo È tutto aperto Come cazzo faccio A girare in giro Con ste robe Ma siamo sicuri Comunque niente Ragazzi Cioè Se voi steste guardando Il culo della mia moto Vedreste Una roba del genere Molto Fanno molto MotoGP Sti cosi Comunque sono omologati Quindi Sti cazzi Vabbè Comunque Figata Questi qua In realtà Non sono lunghi Da montare Adesso Toglierò un po' Di polistirolo E capire bene Sta cosa Perché DB killer Non ci sono Cioè ci sono Questi cosi Ma non sono DB killer Cazzo Niente Il video è finito Perché Niente Non ho più niente Da aprire Spero vi sia piaciuto E Che figo Akrapovic E niente Ci vediamo Nel prossimo video In cui Non so ancora Cosa farò Cioè Non so ancora Cosa monterò Di queste cose Devo ancora capire Un attimo Organizzarmi Però niente Spero vi sia piaciuto E Ciao a tutti Al prossimo video Ciao a tutti